Buonasera a tutti amici, eccomi qui, il Barcellona sta vincendo 2 a 0, io non sono arrabbiato perché i miei giocatori hanno dato il massimo, non mi arrabbio, forse sì, potevamo fare qualcosa in più, ma loro, visto la partita, sono troppo forti, troppo, 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 troppo. E allora vedremo al ritorno a Milano cosa succederà, può essere che a Milano con il nostro coro andrà meglio, però adesso sì, è stata una partita molto sbilanciata, veramente, perché loro comunque sono tutti di un altro livello, non mi ci arrabbio sopra perché è un primo tempo che è dominato, dominato da loro, secondo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni, ma loro hanno fatto tutto, tutto, Io penso che la vittoria loro se la meritano perché comunque loro sono forti, sono forti, non c'è niente da dire, alla fine questo non era la partita decisiva. Ragazzi dai, noi ci dovevamo aspettare, cioè, sì è vero, l'Inter deve giocare per vincere, ma si vede che c'è la differenza, ce n'è tanta tanta, Noi dobbiamo fare tanta strada, dobbiamo imparare dalle errori che abbiamo fatto oggi, Spalletti doveva lavorare su questo, ora penseremo alla Lazio dopo la prossima partita. Ormai è inutile che la guardo perché ormai sta vincendo il Barcellona 2-0, non penso che cambierà qualcosa. Comunque, mi complimento lo stesso con la mia squadra che comunque ha fatto il possibile, io non mi arrammarico, non sono deluso, non sono arrabbiato, non sono amareggiato, la maglia ce l'ho qui, eccola qui, non me la levo perché fa un po' freddo, però comunque ragazzi non importa, non importa, certo, c'è il rammarico, c'è il delusione, siamo l'unica squadra italiana che ha perso la Champions perché il Napoli mi pare che stia vincendo 2-1 col PSG, però ragazzi si sapeva, non c'è niente da dire, noi sì è vero, dovevamo fare un po' di più, io penso che dovevamo fare così, però ragazzi quello che dico io, piano piano dobbiamo imparare dalle errori che abbiamo fatto oggi, dobbiamo migliorare su tutto, la Champions, è il primo anno, dopo 6-7 anni che andiamo in Champions League, quindi ci vuole calma e sangue freddo. Comunque ragazzi, la partita è quasi finita, non penso che ci sarà il cambiamento e io amo la mia Inter perché comunque ha cercato di fare il tutto, il tutto e il tutto. Io penso che a Milano sarà un'altra cosa, ma vedremo, io penso che noi ragazzi dovremmo migliorare comunque, dobbiamo crescere come squadra, come mentalità, come qualità. Spalletti ha fatto il possibile, si vede che mancava Nengolan, ma pure se fosse secondo me non penso che abbia cambiato qualcosa, ma non ho niente da dire, primo o secondo tempo giocato da loro. Noi abbiamo avuto qualche occasione, ma forse noi dovevamo giocare meglio, lo ripeto, forse dovevamo fare qualcosa in più, forse è vero, però, ahimè, purtroppo sta finendo così. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima partita, è un breve video perché comunque non c'è da dire niente, l'Inter ha fatto la sua partita, ha cercato di fare il possibile, forse Icardi doveva fare un po' di più, secondo me non doveva fare la doppia punta. Se tu devi dare del tutto per tutto è meglio che tu spalletti facevi la doppia punta, cioè io la penso così. Bene ragazzi, nella gioia e nel dolore all'Inter ho giocato amore, amola. Grazie a tutti.